La Mina Vagante, emozioni enogastronomiche di Michela Pirellini Sono stata invitata a un simposio per parlare di biologico o meglio per ascoltare e per apprendere e comprendere quali sono tutte le differenze che stanno emergendo in questo momento nel mercato del vino tra vino naturale, vino biologico e vino da agricoltura biologica o biodinamica e via dicendo Non ti voglio tediare con la didattica, perciò tutto quello che sono le informazioni a riguardo le troverai scritte sul web, sul mio sito piuttosto che marca doc su quello dell'azienda Invece io parlerò delle emozioni enogastronomiche perché nell'arco di quella giornata c'è stato un pranzo dove mi sono tuffata veramente con grandi soddisfazioni e mugoli perché io non resisto al mugolare quando metto in bocca qualcosa di veramente buono Ma la cosa fondamentale e il messaggio che comunque vorrei veicolare è la parolina magica biologico perché la differenza tra un alimento, comunque parliamo di vino e quindi diciamo tra il vino biologico e il vino convenzionale Ma anche tra gli alimenti che sono l'agricoltura senza veleni, senza prodotti chimici piuttosto che gli animali da cortile o i maiali o la scintassenese allevati allo stato brado quindi liberi di scorazzare come poteva essere come natura vuole insomma fa molta differenza Si dice a volte sei ciò che mangi quindi quello che ingurgitiamo è quello che poi ci darà il risultato del nostro stato di benessere piuttosto che di malattia Se mangiamo bene ovviamente abbiamo dei problemi magari che derivano dalle situazioni di stress, di lavoro e di quant'altro ma non dall'alimentazione Almeno cerchiamo di inghiottire cose buone A volte si entra nel paradosso di chi coltiva l'orto e poi usa il veleno magari per le lumache Ecco è veramente un controsenso o preferisco come mi ha insegnato mio padre condividere con le lumache e quindi magari mangiarmi mezza foglia io e mezza lumaca ma almeno è sana I veleni sarebbe meglio non ingurgitarli dal momento che comunque li respiriamo e soprattutto chi vive in città non può fare a meno Ovvio che la vita di campagna è più naturale ma se cerchiamo anche di preservare quello stato naturale senza usare prodotti chimici è meglio Quindi parliamo di biologico nel vino cosa emerge in questa comparazione tra i vini biologici e i vini convenzionali? Intanto esce la particolarità del vitigno Il dottor Chinellato ci ha portato un esempio durante la degustazione Dicendo appunto emerge la pulizia dal punto di vista delle caratteristiche del vino Perché se prendiamo ad esempio un Sauvignon che ha il classico sentore da foglia di pomodoro o foglia di salvia come la vogliamo chiamare Si tende nei vini convenzionali a farli tutti omologati e quindi diciamo che si assomigliano più o meno tutti Mentre nel biologico non mettendo solfiti quindi senza solfiti aggiunti Lasciando la fermentazione in mano ai lieviti indigeni e non aggiungendo lieviti selezionati Avremo una riscoperta della tipicità del vitigno che si può esprimere in libertà Dopodiché il discorso salutare ovviamente Meno schifezze mettiamo nel vino, concedetemi il termine E più sano il vino sarà Quindi il discorso dell'alcol Tanti si soffermano sul contenuto alcolico Per cui a prescindere il vino fa male perché è alcolico Non è esattamente così Perché ci vuole buonsenso in tutto Il paradosso è un po' quello dell'acqua Nessuno può dire che l'acqua fa male Ma se ne bevo 10 litri sicuramente bene non sto E così il vino è vero che contiene alcol Ma se io ho una vita movimentata E comunque riesco a consumare quello che bevo Di certo il mezzo bicchiere di vino a pasto non mi farà male Poi io comunque ne sono la conferma Perché ho sempre bevuto e sempre continuerò a farlo E sto benissimo Invece nel cibo appunto mangiamo bene E il fatto di mangiare è sano Ma si riconosce anche qualcosa nel gusto Perché ovviamente un maiale che si fa il muscolo allo stato brado Piuttosto che dentro un gabbiottino fermo e immobile Avrà sicuramente un gusto più intenso E lì abbiamo potuto mangiare dei prodotti In un'azienda agrituristica di Dovadola Quindi in Romagna Che è stata ospitata alle Carline Dove ci sono prodotti tutti biologici Loro hanno praticamente un'azienda agricola e agriturismo Quindi si può anche andare lì a mangiare E io spero proprio di fermarmi nel tragitto da qui a Firenze Quando andrò a casa Ma hanno portato poche cosine lì da presentare E tutte veramente da morire dalla voglia di mangiarle Comunque c'erano tutti i salumi artigianali La piadina fatta con la farina di grano duro integrale e biologica Perché coltivano anche il grano Il gnocco fritto e lardo di colonnata Il tortello, la lastra ripieno di zucca e patate L'olio, il pane e la focaccia integrale Una crostata di susine selvatiche di Mirabolano Che era la fine del mondo E poi cantucci, vino Anche loro hanno il Sangiovese E hanno il Merlot, il Shirai e altri vitigni Succhi di frutta Una cosa da leccarsi veramente i baffi Ho finito il tempo Ecco, quando si tratta di mangiare Volevo raccontare un sacco di cose Invece devo salutarti E spero che questa gita ti abbia incuriosito Abbiamo fatto una gita in quella della provincia di Venezia Nell'azienda Le Carline E in quella della Romagna Nell'azienda agricola, biologica e agriturismo Cadirico Io in questo momento faccio un brindisi alla sua salute Con il mio partner che è Gli Spumanti Le Colture di Valdobbiadene E ci sentiamo la prossima settimana Grazie Marcadocchi in radio vi ha presentato La Mina Vagante Emozioni enogastronomiche di Michela Pierallini In collaborazione con l'azienda Le Culture Vini Spumanti di Valdobbiadene